Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi ospitiamo in studio Alberto Petter che è il presidente del GAL Prealpi e Dolomiti. Buonasera. Salve a tutti, buonasera. Il GAL Prealpi e Dolomiti in questo momento si sta organizzando, si sta riorganizzando perché è un momento di grandi cambiamenti, diciamo così, anche di filosofia generale poi dell'attività del GAL. In che senso? Nel senso che siamo nel periodo di passaggio tra la programmazione vecchia e la programmazione nuova. Quindi il GAL si sta preparando in questi mesi e abbiamo tempo fino a metà del mese di agosto per produrre la nostra nuova strategia che è il documento sul quale dopo si faranno i bandi, tanto per essere così un po' più semplici, no? Che si faranno i bandi dal 2024 circa al 2027 al 2028. In, come dire, in allineamento poi con le programmazioni europee? Sì, c'è stato un disallineamento per quanto riguarda il GAL ed il PSR in generale dovuto al Covid, quindi la programmazione scorsa che doveva terminare nel 2021 invece termina nel 2023. Quindi in questo periodo qua stiamo terminando tutte le pratiche amministrative, ormai perché gli ultimi bandi li abbiamo fatti nel corso dell'anno 2022, quindi tutte le pratiche amministrative, stiamo seguendo un po' i vari interventi che si stanno chiudendo della programmazione scorsa. E nel frattempo stiamo impostando il documento per la nuova programmazione 2023-2027 che poi per il GAL per effetto tutta una serie di procedure terminerà comunque nel 2028. Ecco, nelle programmazioni si può puntare prima su qualcosa, su qualche settore e poi magari decidere di ampliare la platea oppure proprio cambiare la direzione delle strategie. Che cosa accadrà? Allora, c'è un cambio di rotta per quanto riguarda l'attività che i GAL devono fare e portare avanti, nel senso che se prima nelle programmazioni scorse, specialmente nella programmazione del 2007-2013 e anche nella programmazione del 2014-2021-2023, cioè il GAL si è rivolto, diciamo così, a potenziare le attività anche in ambito turistico e a promuovere anche le attività dei comuni, nel senso per esempio di informazione a livello turistico, anche promozionale del nostro territorio. In questa programmazione invece la rotta cambia ed è una rotta che è stata segnata dal fatto che con il Covid si è visto che i territori, specialmente quelli che sono interessati dalla presenza dei GAL, soffrono insomma di tutti i problemi che noi conosciamo bene, quindi la perdita di popolazione innanzitutto, ma connessa a questo ovviamente la perdita di servizi, la perdita di attività, la perdita di imprese, eccetera, eccetera. Quindi i GAL saranno rivolti, l'azione dei GAL, nel loro piccolo ovviamente, sarà rivolta specialmente alla vivibilità e all'attrattività a rivitalizzare le zone in cui questi GAL operano, insomma. Ecco, con un occhio diciamo anche alle politiche rurali? Con un ottico sicuramente alle politiche rurali perché non dimentichiamo che il fondo sul quale il GAL prende i suoi principali finanziamenti è il FEASRA, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che è il nostro fondo principale e che è quello dal quale noi attingiamo le risorse per dopo fare i bandi, quindi il fondo di riferimento è sempre questo e per la programmazione entrante abbiamo circa la stessa disponibilità media annuale di quelle prima perché abbiamo questa volta 6 milioni al posto degli 8 milioni, però bisogna anche dire che il tempo è di due anni inferiore e quindi più o meno abbiamo circa questi due milioni all'anno, insomma. E quali sono gli interventi specifici, le linee di intervento? Allora, quest'anno, tanto per rimanere sulle novità, ci sono degli interventi che possono essere attivati esclusivamente dai GAL. Proprio in virtù di questo fatto che il GAL deve andare a rivitalizzare le zone rurali, è stato detto benissimo voi GAL fate dei specifici interventi che potete fare solo voi, quindi non è più come per il passato dove il GAL entrava, diciamo così, in concorrenza rispetto ai bandi che la stessa regione poteva fare. E ci sono delle novità importanti. Allora, per quanto riguarda le attività, diciamo così, di commercio, di piccolo artigianato, c'è la possibilità per le nuove attività di dare un contributo per l'avvio di questa attività, che può essere di 12 mila euro, con l'impegno appunto solo di mantenere questa attività aperta per almeno tre anni. Quindi chi fa una nuova attività in ambito commerciale, in ambito artigianale, in ambito anche turistico, può essere, perché, diciamo, però chi fa una nuova attività nelle zone rurali interessate dal GAL può beneficiare di un contributo pari a 12 mila euro solo per il fatto di aver aperto questa attività. È un contributo, diciamo così, alle start-up. Questa è sicuramente una novità. Un'altra importante novità sono gli investimenti produttivi, non produttivi, nelle aree interessate dal GAL. E questa misura è dedicata esclusivamente agli enti pubblici. L'ente pubblico che vuole attivare un servizio, che vuole attivare un servizio o che vuole mantenere anche un servizio, pensiamo per esempio al servizio di pulmino per il dopo scuola, oppure che vuole per esempio ristrutturare un locale per dopo darlo in gestione a delle imprese o a una cooperativa. Ci sono tanti esempi. Comunque l'attivazione di nuovi servizi o il mantenimento di servizi può essere finanziato fino a 200 mila euro. E la novità anche è che il 20% di questa somma che verrà data agli enti pubblici potrà essere utilizzata in spesa corrente, per esempio per pagare il personale che è dedicato a questa attività. E anche questa è un'importante novità, anche per il solo fatto di poter utilizzare una parte di questi fondi che prima veniva solo indirizzata agli investimenti, di poterla utilizzare per le spese correnti. Poi un'altra azione che dovrà fare il GAL, sempre nell'ambito della vivibilità, è quella di informazione. Cioè l'attività del GAL dovrà essere rivolta anche a fare informazione sull'attrattività. Nel senso di dire venite ad abitare nel territorio di Limana, di Feltre, di Borgo, Val Belluna, perché lì si sta bene, perché lì ci sono questi servizi, perché guardate che c'è un territorio organizzato che può ospitare famiglie e imprese. Questa è un'attività specifica di informazione che dovranno fare il GAL e quindi dovranno mettere a sistema un po' tutte le opportunità che il territorio offre per renderlo, diciamo così, per comunicarlo e renderlo attrattivo a chi da fuori vuole venire ad abitare qui. E l'ultima, diciamo così, novità importante è quella che riguarda gli investimenti produttivi invece delle piccole imprese agricole. E questa è una novità anche questa, perché fino adesso il PSR, il vecchio PSR finanziava solo gli imprenditori agricoli professionali, mentre invece questa misura che potranno attivare solo il GAL sarà destinata a questi piccoli imprenditori agricoli che non hanno i requisiti per essere riconosciuti come IAP, ma che svolgono però una funzione di presidio del nostro territorio importantissima. E quindi pensiamo per esempio a chi ha il piccolo gregge, che comunque fa un'azione dal punto di vista territoriale importante, potrà essere beneficiario di un contributo fino a 100.000 euro finanziato al 50%. Non stiamo parlando degli obbisti assoluti. Non stiamo parlando degli obbisti che, insomma, però stiamo parlando di quegli imprenditori agricoli quindi che svolgono quel lavoro là, che però per tutta una serie di parametri non riescono ad essere riconosciuti come imprenditori agricoli professionali e quindi non hanno accesso alle misure classiche del PSR. Si parla di aree rurali, ma che cosa significa? Aree rurali si intende... Comuni interi o... Tutta l'area del Galpre, Alpi e Dolomiti è area rurale, nel senso che rurale si differenzia rispetto all'area urbana, cioè non abbiamo delle aree urbane. Anche lo stesso comune di Belluno, oppure essendo un comune, insomma il comune capoluogo, però non è area rurale, cioè non è area strettamente urbana. Quindi tutto il Galpre, Alpi e Dolomiti, tutto l'ambito territoriale del Galpre, Alpi e Dolomiti può essere interessato da questi nuovi interventi. Ci diciamo che quindi queste misure per chiudere cerchio non sono destinate solo a iniziative che vanno magari nelle frazioni più sperdute, ma in realtà possono essere veramente dappertutto. Assolutamente sì, è chiaro che aprire un piccolo negozio in una frazione isolata o comunque aprire una nuova attività o garantire anche al piccolo imprenditore agricolo certo che è tanto più efficace quanto più queste risorse vanno alle periferie in maniera da tenere vivo il territorio, però insomma tutti possono essere interessati da questi tipi di interventi nuovi. Ecco, l'azione del Gal si intersecherà poi con altre strategie, cioè per esempio la dinamica delle aree interne che hanno il loro fondo di coesione dedicato ma che per una parte in realtà hanno risorse che gestite anche voi. Certo, il territorio della provincia di Belluno per questa programmazione è stato interessato dalla costituzione di due nuove aree interne e una di quelle interessa parzialmente anche il Gal per Alpe Dolomiti perché è l'area interna al pago zoldo e in quest'area interna noi come Gal siamo espressamente chiamati in base alle direttive a livello regionale siamo espressamente chiamati a gestire una parte di quel fondo che alimenta l'area interna che è sempre lo stesso fondo di cui parliamo adesso, quindi il Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e dovrà creare dei bandi appositamente per quell'area interna che dovranno ovviamente intersecarsi con i nostri bandi che facciamo per l'altra area, stiamo parlando di un milione di euro circa e quindi bisogna trovare una complementarietà tra i bandi che verranno fatti per tutta l'area del Gal e ovviamente i bandi che saranno dedicati all'area interna e con particolare riferimento alla zona di Alpago. Abbiamo detto che siamo in un periodo di cambiamenti per il Gal, diciamo che c'è anche, si prepara il cambiamento della guida, no? A fine mese. Sì, a fine mese ci sarà l'elezione del nuovo consiglio direttivo e del presidente. Io insomma sono da nove anni alla guida del Gal, ho fatto tre mandati e quindi per rinnovare anche un po' il Gal ho detto in sostanza che non darò la disponibilità per fare di nuovo il presidente, credo che sia giusto anche nei confronti dello stesso Gal cercare un rinnovamento e quindi penso che il presidente nuovo e la squadra nuova che verrà eletta a fine mese potrà sicuramente trovare gli stimoli giusti anche alla luce di tutte queste importanti novità che stanno insomma avvenendo avanti. Il Gal, diciamo, somma le sensibilità di vari attori del territorio, uno quindi si può domandare, ma il presidente del Gal deve essere per forza un sindaco? Beh, io sono stato presidente del Gal a nove anni e ho fatto solo un anno in cui ero sindaco. Ero consigliere e vice sindaco di Farra quando sono stato eletto e no, non deve essere necessariamente un sindaco, deve essere una persona che a mio avviso deve avere una visione un po' di insieme, deve capire un po' quali sono le dinamiche, specialmente dei fondi europei, avere una visione larga e soprattutto deve impegnarsi a studiare, insomma, perché entrare in tutti questi meccanismi non è facile, non è semplice, però è assolutamente stimolante e anche bello. Il Gal per alpidolomiti, peraltro, ha anche una funzione informativa molto specifica, al centro Europe Direct, no? Quindi diciamo si occupa anche di informare poi chi può accedere ai bambini. Sì, diciamo che l'attività originaria del Gal in questi nove anni è cambiata tanto, nel senso che abbiamo allegato un po' i nostri orizzonti, non facciamo solo leader, che è quello di cui abbiamo parlato oggi, ma facciamo anche tante altre attività, tra cui appunto quella che è stata avviata nel corso del 2021, che è rappresentata dal centro Europe Direct, che si occupa di fare informazione di tutte le opportunità, non solo quelle del fondo specifico dei Gal, ma di tutte le opportunità che l'Europa offre ai propri territori, con particolare riferimento per quanto riguarda il centro Europe Direct alla montagna Veneta. Veneta, quindi, diciamo, lo sguardo è sicuramente più ampio. E a proposito di sguardi ampi, qualche mese fa, se non sbaglio, doveva essere stato quest'estate, ci ha parlato dell'IPA, la Costituzione dell'IPA, anche quello è stato un passaggio abbastanza importante. Sì, è stato un passaggio importantissimo che fra l'altro abbiamo proprio ufficializzato nell'ultima assemblea e il Gala adesso è diventato anche intesa programmatica d'area, che sembra una parola difficile, ma in sostanza è un'opportunità che viene data ai territori di tutto il Veneto per organizzarsi e questa intesa programmatica d'area ha questa funzione, in sostanza ha la funzione di andare a collegare tutte le varie opportunità. Ci sono i fondi leader, ci sono i fondi delle aree interne, ci sono i fondi interreg, per esempio, ci sono i fondi dei comuni di confine. Insomma, ha il compito di mettere in relazione tutte queste opportunità e di trovare per ogni progetto, per ogni progettualità che per esempio un comune vuole fare, la linea giusta di finanziamento, è come una bussola di orientamento per i vari fondi. Grazie mille per essere stato con noi qui. Salve a tutti, grazie a voi. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni. Grazie a tutti.